Na 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 Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono fatti Son portiere e assassante, holi e benji, due speranze Loro vogliono sfondare e campioni diventare Per poter così giocare nella squadra nazionale Nella squadra nazionale Con il Salena tirando i rigori Benji Salena parando i rigori Siamo in partite gli allenamenti Tanta è la classe dei due contattenti Ogni rigore, ogni pallone Benji lo segue